Questa volta si è fatto sul serio contro quella che è diventata una vera e propria vergogna sotto gli occhi di tutti. Parliamo dell'isola ecologica di Fontanelle che rimane davanti alle scuole aggiungendo problemi sopra problemi di natura ambientale e di decoro che hanno fatto scattare la reazione da parte del comitato di quartiere che questa mattina dopo aver inutilmente chiesto l'intervento della polizia locale si è rivolto ai carabinieri che si sono recati sul posto con i colleghi del centro anticrimine natura. I militari hanno inviato una relazione alla procura della Repubblica che ha disposto l'immediato sequestro dell'area. Diciamo che a nulla sono servite le promesse dell'assessore all'ecologia del comune di Agrigento, Nello Amel, di riaprire l'isola ecologica riportandola ai tempi quando era utile alla popolazione. Invece con il passare dei mesi, come testimoniano le foto scattate ieri, la piazzetta è trasformata in un'immensa schifezza. Insomma, se dal comune non sono riusciti a risolvere la questione, i cittadini ringraziano l'autorità giudiziaria di Agrigento che mette la parola fine alla triste vicenda. Adesso bisognerà aspettare gli sviluppi che la vicenda sicuramente avrà con gli eventuali responsabili di quella che è stata una vera e propria omissione di intervento per evitare i pericoli ambientali. E a proposito del comune di Agrigento, in materia dei rifiuti, qualcuno a Fontanelle non si è lasciato sfuggire l'occasione per ironizzare sulla scelta di collocare dei giochini davanti alla chiesa. Gli abitanti ricordano che proprio lì lo stesso comune aveva autorizzato un centro di trasbordo dei rifiuti raccolti porta a porta. La scelta del luogo quasi attaccato alla scalinata della chiesa aveva suscitato grande scalpore. Insomma, dai rifiuti ai giochini, come dire che è fin troppo facile prendere in giro la gente facendo il bello e il cattivo tempo. Ma questa è un'altra storia che comunque dice tutto su come si gestisce il territorio.